Naturalmente riempie di soddisfazione che ci sia una struttura, e non è la sola, per fortuna della sanità piemontese che abbia raggiunto il vette di eccellenza anche dal punto di vista della quantità degli interventi come quello del professor Salizoni che se non sbaglio lo colloca fra i primi, credo nei primi 4-5 centri a livello mondiale nella trapiantologia. Quindi massima soddisfazione e gratitudine al professor Salizoni, alla sua equip e a tutte le persone della città della salute che i risultati si raggiungono se c'è un grande che comanda ma anche se c'è una squadra che funziona.